Ciao amici vacanzieri, mentre voi vi state riposando, nel frattempo starete guardando i miei video, io ho trovato questo gioco, guardate, the sims, ho trovato the sims mobile, si esiste the sims per, non c'è che aprire, Senti, per me possiamo anche giocare, oh, the sims mobile, mamma mia, ovviamente, Vai lì, è una grafica abbastanza semplice, molto semplice, ovviamente, beh, ovviamente, mica ci possiamo aspettare, Non è come the sims, sapete, quello classico che si compra, però, dico, secondo me è una valida, validissima alternativa a the sims, quello normale, Sì, vabbè, è la versione per mobile, per telefono, gratuita, però, oh, io dico, cioè, comunque, ed sims, comunque, non è che dobbiamo fare chissà che cosa, Voi, io ripeto, se voi volete, cioè, se, 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 camera da letto, cioè, io dico, se voi volete una, una serie, diciamo, E, cioè, senza alcun problema, io, non è che mi faccio problemi, per carità, Ok, sì, così è uguale, dai, poi, posso, ah, è una bella lampada, che cazzo, facciamo gialla, facciamo gialla, dai, ok, Secondo me, secondo me può anche, però, per ora, cioè, per ora, può andare bene così, no, il, no, il gioco mi dice, devi comprare tutto, cioè io ripeto se voi ci volete una serie beh perché secondo me questo è una valida validissima alternativa a the sims quello normale saluta cioè io non è che dico devo poi ovviamente se voi volete sapete il sims quello normale io non mi faccio problemi a comprarla assolutamente qua comunque tu non dico che puoi fare il cazzo che vuoi però poi potremmo proprio boh creare cioè una storia sapete boh cioè ma ritira le compense e dai ecco di cash ok beh posso lavorare per guadagnare soldi cazzo ne so eh si è giusto è giusto andiamo a cash ma io mi chiedo ma questa qua che cazzo è ma senti il frigo io lo metterei qua lo facciamo marrone senti lo facciamo così ma questi due colori si devono sbloccare ma vabbè allora lo facciamo nero semplice primi mobili ma buh è situazione reale med ma prima missione ok sentite ok sentite così io vi lancio questa proposta se volete una serie arriviamo a 10 mi piace se arriviamo a 10 mi piace ovviamente quali problema boh vi portare una serie e quando sarà continueremo anche il live non è che mi faccio problemi se questo video vi è piaciuto io vi invito a mettere un bel mi piace commentate condividete iscrivete e attivate la campanella noi ci vediamo domani con un prossimo video e buone vacanze vacanzieri vi volevo dire che sto iniziando a collaborare con questa ragazza che si chiama beatrice che fa dei video secondo me molto validi se vi volete iscrivere al suo canale magari condividerli anche il suo canale l'ho trovato in descrizione e se mi dovessi scordare di mettere il suo link in descrizione è esattamente da questa parte vedrete in sovrimpressione un'immagine del suo canale youtube mi raccomando come ho fatto io iscrivetevi anche voi ovviamente questa cosa la farò sia io che lei praticamente io metterò in descrizione il suo canale e lei metterà in descrizione il mio canale io visto che voglio fare la cosa la voglio fatta bene metto anche un video ovviamente il video sarà sempre lo stesso quindi non vi stupite se vedrete sempre la stessa cosa